Ciao ragazzi, ho realizzato questo video in questa postazione rilassata perché sono stanco e perché voglio informare chi mi segue che domani uscirà un video, un formato nuovo che è la video sfida. Realizzo questo video per chi mi segue perché vede un video nuovo e dice ma cos'è questa roba? Allora praticamente grazie a Mr. Mega Drive sono stato ammesso a una sorta di piccolo torneo così per divertirsi amatoriale e quindi periodicamente si fanno queste video sfide. La video sfida di domani sarà relativa al gioco Road Fighter per Nintendo e io farò tre tentativi, il tentativo con il punteggio massimo viene tenuto buono e poi si farà una classifica. Sono qua con i miei giochi per Game Boy Advance, io solo questi per Game Boy Advance e cito alcune persone che partecipano a questa iniziativa però probabilmente non le citerò tutte perché al momento io ho solo avuto modo di avere a che fare con Mr. Mega Drive quindi ho semplicemente guardato il suo video e ho scritto le persone che anche lui menzionava in quel video e probabilmente non l'ho neanche scritta tutte quindi chiedo scusa se qualcuno non verrà nominato ma non è per cattiveria semplicemente perché ancora non li conosco tutti. Quindi c'è Mr. Mega Drive, Miss Mega Drive, APT, Giocobello, Comodorista, GioGio, Zombie Gamer, Kutros, La Macchina del Tempo, Moxie Channel e Samus. Non so se voi già li conoscete, se seguite il mio canale magari vedete anche altri canali dedicati al mondo del retro gaming italiani, credo proprio che siano tutti italiani. Sto ancora in fase di produzione per quanto riguarda il nuovo format le comparazioni. Chi mi segue sa che sto pensando di iniziare a fare dei video comparativi, per esempio Mega Drive vs Super Nintendo o Master System vs Nintendo o simili. E' un work in progress, devo imparare ad usare un altro programma, mi devo informare bene, è lunga però non ho abbandonato il progetto. In più c'è in pentola che bolle una collaborazione con il grande Alfonso Sepe, al momento c'è tutta l'intenzione di fare questa collaborazione, c'è tutto l'impegno e tutta la voglia, non si sa quando però realizzerò questo video, vedremo. Spero di farvi una bella sorpresa, a me l'idea piace, però non vi voglio svelare di più, come mi piace anche l'idea delle comparazioni, già altri canali lo fanno. Soprattutto americani, almeno per quello che ho visto io, ma non ci saranno solo americani. Io ho raggiunto i 1000 iscritti, come sapete, ho fatto un video di ringraziamenti, vi ringrazio ancora e spero di crescere. Un saluto dal vostro, aspettate, faccio un saluto serio, sì, con gli occhiali sporchi ma fa niente, anche con gli occhiali sporchi divento serio. Un saluto dal vostro Dario Lino 78. Ciao!